L'arancia l'ha buttata, perché non mi piace. Andiamo. Tra l'altro abbiamo freddo, non so se è notato. Ma chi se ne frega, andiamo, dai. Andiamo. Andiamo in centro? Vai. Andiamo. Oddio, stanno sparando con un cannone pesantissimo. E' il temporale. Oh, aspetta. Cazzo è qua? Come si fa ad abbassarsi? Eh, devi strisciare lì. Ah, lì è il bastone elettrico. Bello. Funziona. Sì, ma non piacerebbe che non lo provassi su di metro. Ecco. Vieni qua. Non lo voglio provare. Oh, stai sparando. No, sei tu che hai fatto le cose. Il rumore, dai. Io mi chiedo dentro una casa. Non ti voglio sparare. No, no, no. No, fidati. No, no, no. È scarico. Ho fatto le manette. Dove sei? Hanno il tuo nome stampato sopra. Oh, che cazzo. Dove sei? Vieni qua. Dove è cazzo? Lurido. Lurido. Brutta merda. Ci sono gli stivali. Ti regalo un paio di stivali. Non gli voglio. Manu. No. Procio. Ehi, ma non funziona sul serio. Sono sicuro che t'avamo... Oh, mi sei armata la cetta, Mario. Manu, vieni qua. Vai via. Guarda che ti sparo. Vieni qua. Aspetta, fidati. Non ti fulmino. Vedi, non funziona. Ho provato, t'ho preso, non funziona. Guarda che non ho le vende. Ah, ma allora funziona. E già che funziona. Ma non ha fatto... Eh beh, eh beh, facciamo subesia. Eh, ho capito. Allora non lo mettere il bastone elettrico, però. Eh, un po' così. Qua c'è il caso. Oh, no, no. Mandana la casa. Se non sei capace di far fare... Perché metti il bastone elettrico? Eh, perché siamo su desi. Eh, ma uno si aspetta... Oh, che cos'è? Ah, sì, si è in presa. Qua c'è una medusa. Non è una medusa, è una bandana. Me la sono messa, credo. No. Ecco qua. Guarda, andiamo. Guarda, c'è un vestito che puoi metterti. Ti sa che tanto sei maniche corte. Guarda, vieni. Che casco? Vieni, vieni. Non mi piacciono tanto i caschi, però, eh. Dove? Ah, lì, vieni da me. Qua non c'è niente, no. No, no, lì, esci. Qua. Guarda, che bello. Questo è proprio l'ultimo modello, ma non me lo mette. Ma devi trascinare tutto sul corpo, eh, se lo metti in alimentare. Ah, ecco. Nigga, che brutto che sanno. Sport, son vagabondo. Eh, no, no. Spiccioli. Piccioli, signori. Sì. Ho fame, ho freddo. Ho fame, ho freddo. Ho fame, droga. Droga. Ma come mai invece nessuno? Ma già sta, è meglio. Beh, se non ci serve la sentiamo sparare. In questo no. Eh, è crashato quell'altro, è ancora muto. Eh, ma è rispettato. Andiamo all'ospedale, ci serve la sacca di sangue per fallire. Eh, la sacca di sangue per fallire. Per fallire la trasfusione, vieni. Ah, traficotti per il Mosin. Vieni qua. Troveremo. Non c'è l'ospedale, però. Come non c'è? Eh, no. Ma. Ah, è vero. C'è la stazione di polizia, però. Eh, ci stanno le sacche di sangue. Andiamo. Eh, no, però. Ma potrebbe... Ah, ma è qui, è lo. Questo non è l'ospedale, ma è tipo una farmacia. Questa acqua azzurra. Sì, funge da ospedale, comunque. Ah, si vede, c'è scritto. Nei paesini piccoli, anziché metterlo ospedale, hanno messo ste cose. Eh, buona come cosa. Anche perché l'ospedale è un attimo un baggato. Oh, che cosa è sta stanza? Ah, da fuori. Ah, eccole qua. Oh, bende. Cosa hai trovato? Eh, qui è passato qualcuno, perché queste bende sono... Adesso non sono quelli che si trovano nei kit. Ma le vitamine a cosa servono? Niente per ora. A niente. Per ora no. Penkiller, i penkiller sono buoni. Eh, ma ancora non servono a lui. Come no? Ci sono un sacco di cose che non servono a lui. Ma che cazzo? Qui c'è l'alcol, prendiamolo. Ci possiamo ubriacare. Avveleniamo, avveleniamo le persone. L'ho bevuto. No, veramente. E cosa fa? Uccide. Ah, davvero? Sì, ma non l'hai bevuto. No. Ah, non berlo. Ma l'alcol non dovrebbe ucciderti, cioè... È alcol per tinture, non è alcol epilico. Sì, ok, ma non è che muori subito così. No, ti avveleno, però. Quanto male mi farebbe? Eh. Diventi sick. Ah. E poi dopo piano piano perdi sangue. Piano piano muori. Muori. Se devi uscire, dirilo. Alla cosa di polizia, di qua. Andiamo perché piove. Ma si piove anche forte. Vai, ti sono dietro. Venga, venga. Certo che il suo gioco però nelle città, mamma mia, come puzza. Eh, ma... Eh, no, eh, scendolo brutto. Devi configurarlo, io ti dico 40 fps. Oh, che cosa sta? È sta... Io, io. Aspetta che chiudo le porte. Qua c'è una bibita, morito. Ah, un'altra birra? Io c'ho bisogno di bere. Mi piace la birra, eh. Manzone. Con un barbo... Guarda che scale ripide che ci sono qua. Aspetta, vieni, vieni, ci sono i colpi per la tua cosa. Aspetta, va sopra. Aspetta, prendili tu. Prendo io? Sì. Oh! Ho trovato un altro fucile. Uguale a quello che opero, eh. Eh, l'SKS. Credo, eh. A parte che non me lo fa prendere. Ho trovato una penna. Cioè, c'è un modo per prendere due armi, ma è bugato, poi è un casino. Ah, no, 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 no. Già, ci sono abbastanza bug, non c'è bisogno di... Ma queste scale, ma che cazzo? Però è bello sto edificio, mi piace, guarda. Eh, no, è una cosa di polizia. Fuori c'è qualcosa. Fuori... Sì. Spererei di trovare qualcuno. Una Coca-Cola. Una... Nota-Cola. Nota-Cola. Buona. Ho bevuta. Mi fa male. Eh, fa le bollicine. Tipo la Coca-Cola degli anni 80, questo. Sì, però è nota. Mi hai tirato un pugno. No. Mario... Manu, mi stavi buttando giù dalle scale. Vabbè, dai, intanto c'è la morfina. Ah, non c'è nessuno. Ma dov'è la zona proprio? Eh, siamo proprio nel centro della... La zona calda, noi. Eh, ma intanto, se ci arriva qualcuno, ci ammazza e basta, non è che ci abbiamo tanto da... Da ragionare. Ah, magari qua sono disarmati tanti che arrivano. Poi troveremo qualcuno da essere friendly con. Sì, sì. Basta trovare uno disarmato. È vero, quelli sono tutti friendly, finché non trovano un altro. Ah, vieni, vieni, andiamo al bar qua. Che di solito si trovano i Mosin. Ah, qua c'è un pit vuoto. Bene. Ah, io già ce l'ho, ma mi sono affezionato a questo. Ah, ma tutto non c'è. Ah, ci sono altri colpi per la mano. Minchia, ci ho trovato un botto di cose per la mano. Una zappa, la zappa ci serve, Manu. Sì, prendila, prendila. Eh, ci serve la zappa per scavare il verme. Il vermaccio. Ma io questa cosa elettrica la butterei, fa schifo, bro. Allora, vieni, vieni, vieni. Aspetta, vieni qua. Questo e questo. Sono... Guarda che non hai messo per te. E poi? Dov'è l'altro? Eh, prendile. Sono munizioni per la pistola. Grazie. La Magnum. Ma io devo fare una prova. Uno è un caricatore rapido e gli altri sono i colpi. Meh. Fa male, eh. Speravo che facesse più rumore, però. Oh, guarda da qua. Si vede tutta la strada. Sì, sì, ma infatti qua si mettono a camperare. Eh, ci credo. Guarda là. Questo è un buon punto. Dalle finestrelle si vede proprio tutto. Il problema è che si mettono anche sulle colline a cecchinare. Figli di puttana. Ma sai che così, così, cosa possiamo fare? Potremmo andare a caccia. Abbiamo abbastanza per andare a caccia. Sì. Abbiamo... Prenditi il macete così puoi squagliare. Squagliare. Se piove si bagnano, mi pare che... Però vabbè. Si eccitano. Eh, eh, oh. E se invece facciamo un'altra cosa più, più aggressiva... Cos'è il swing kit, Manu? Eh, per riparare i vestiti. Serve? No. Ma è tanto... Sì, puoi riparare quello che hai tu addosso. Ma chi se ne... Ah, posso farlo più bello? Sì. Ah. Allora, sì. Pascinolo sull'abito. Eh, swing kit, sull'abito. Già da addosso? Non ce l'ho, dov'è? Ah, eccolo. Oh, mi stai facendo qualcosa? No. Mi hai ammanettato? No. È uguale a prima. Ma ti dice che te l'ha fatto? Sì. Evidentemente questo capotto, quando è uscito dalla fabbrica, faceva schifo. È andato fuori produzione perché nessuno lo comprava. Eh, ci credo. Ha schifo al cazzo. Dove sei? E se invece facciamo un'altra cosa? Eh. Se sluggiamo qui e cerchiamo un server proprio bo-bobom, pieno, 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 buona idea, vai. Eh? Dai, 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 facciamola. Probabilmente ci troveremo qualcuno davanti che ha avuto la stessa idea, però. Allora io sluggo in un posto non convenzionale, tipo qua. Ti faccio vedere. No, ma ti... No, è biglia, è lì proprio. Guarda, vieni, facciamo... La furbata, dietro l'armadio. Qui. Ci stiamo in due? Sì. Vieni. Vieni che... Spawniamo baggati e ci rompiamo le gambe. Vai! Vieni che... Ciao